Il Fondo Comunità di Premana nasce nel 2000 quando alcuni parrocchiani fanno presente al parroco protempore di Premana questa opportunità. Viene mandata poi una lettera a tutti i preti nativi di Premana e da loro si ha una risposta affermativa e si inizia allora a stendere uno statuto in conformità anche a quello che la Fondazione Provincia di Lecco richiedeva. Naturalmente il Fondo Comunità di Premana in questi 17 anni si è incrementato per alcuni lasciti di parrocchiani oppure durante la festa della comunità che è l'11 gennaio la parrocchia raccoglie sempre dei fondi per appunto incrementare il Fondo Comunità di Premana. È interessante cogliere come questo Fondo Comunità di Premana matura durante l'anno un interesse e questo interesse è spendibile su progetti legati al proprio territorio che possono riguardare aspetti socioassistenziali oppure culturali dei beni artistici. Con il Comitato che sempre in quel giorno 11 gennaio si dà un po' l'appuntamento e cerca grandi linee di vedere in che modo usufruire sia dell'interesse maturato sul fondo oppure quale progetto presentare alla comunità territoriale delle chiese. Questo è il talento che raddoppia o si triplica o si quadrupla quindi non certamente per un arricchimento della parrocchia ma invece proprio al fine di mettere sul territorio dei beni che sarebbero andati non dico persi comunque non apprezzati nella loro bellezza e con l'intervento del Fondo Comunità di Premana e il 50 per cento del Fondo Territoriale Lecchiese ecco che questo progetto viene portato a compimento. Il nostro fondo che è all'incirca 105 mila euro con gli interventi fatti è stato ben superato e nello stesso tempo abbiamo ancora il capitale a nostra disposizione, a disposizione del territorio di Premana in modo da poter valorizzare i vari aspetti anche della comunità stessa. Sull'ambito socio assistenziale ci sono stati degli interventi nei confronti della casa Madonna della Neve che è una casa di ricovero per gli anziani e anche sostenendo un progetto che ci è stato fatto presente dal gruppo Alpini di Premana. Questi 17 anni abbiamo avuto comunque dei lasciti abbastanza significativi sui 10 mila euro che sono andati a incrementare proprio il Fondo Comunità di Premana.